Bentornati, 64esima puntata delle colonne d'Ercole e quarta parte di quello che ho chiamato Gli anni folli di Ennio Morricone. Oggi parliamo del 1969. Prima di proseguire scartabellando fra i miei innumerevoli libri ho trovato questo testo che non trovavo da tanto tempo e sono contento di aver scovato in quale scaffale era finito. Questo testo che si chiama Norme con ironie, anagramma di Ennio Morricone per chi non l'aveste capito, che è un testo celebrativo dei 70 anni del legno nazionale, autografatomi dall'autore nel lontano 1998. Testo che mi ha fatto tanto piacere ritrovare e che ora metterò nel posto che gli spetta nella mia libreria. Allora, il 1969, che cosa possiamo dire di quest'anno? Dal punto di vista più generale, dal punto di vista cinematografico, possiamo dire che uno ancora di quegli anni in cui il cinema in Italia era fortissimo, in realtà non solo in Italia, anche in Francia, insomma in Europa, un po' in tutto il mondo, insomma, erano anni in cui comunque la televisione non offriva che una minima parte dell'offerta che da oggi, ovviamente le piattaforme non c'erano, internet non c'era, insomma, quindi era un mondo completamente diverso dal punto di vista della comunicazione e andare al cinema era uno dei passatempi principali di tutte le famiglie, per cui quasi tutte le famiglie, almeno al fine settimana una volta al cinema ci andavano, tutti in gruppo, insomma, ecco perché si producevano così tanti film, ecco perché c'erano quegli incassi, insomma, che oggi sono ovviamente un lontano ricordo e soprattutto un lontano rimpianto. Dal punto di vista cinematografico di quest'anno possiamo dire che è un anno appunto dove c'è tanto fermento, si producono tanti film, ma fondamentalmente riconducibili a quattro categorie principali. I western che dal 1965 indicativamente fino per una decina d'anni avranno ancora un periodo di vitalità, ma che lentamente stanno andando verso una fase discendente, la commedia all'italiana, i film erotici e i film comunque con una forte connotazione politica, generalmente tendente a sinistra, Ennio Morricone scrive le musiche per tanti di questi film, non ha mai, insomma, fatto mistero delle sue simpatie politiche, e sono anni in cui comunque il cinema era anche abbastanza politicizzato e quindi buona parte della produzione dei film di quegli anni rispecchia questa visione politica. Dal punto di vista invece più strettamente musicale possiamo dire che il 1969 è l'anno in cui Ennio Morricone compone 21 colonne sonore, quindi siamo quasi a una media di due colonne sonore al mese, ma non siamo ancora all'anno più intenso che li toccherà di lì a poco. E sempre dal punto di vista musicale posso dirvi che di queste 21 score, di queste 21 colonne sonore, sono ancora tutte dirette da Bruno Nicolai, ma nessuna di queste è confirmata. Che cosa sta succedendo? Perché qualche colonna sonora è stata confirmata da Bruno Nicolai e dal 1969 questa cosa non succede più? Succede che Ennio Morricone non è più molto d'accordo nel fatto di confirmare le colonne sonore, che peraltro non sono tantissime, sono quasi tutte, l'abbiamo visto l'oltre nelle prime 100 colonne sonore, sono tutte dirette da Bruno Nicolai, ma solo poche in realtà sono confirmate come autore delle musiche dallo stesso. Ennio Morricone però col passare del tempo si rende conto che questa cosa potrebbe porre dei dubbi su chi ha fatto cosa e quindi sulla sua vera paternità delle musiche. E allora preferisce interrompere la collaborazione quantomeno compositiva con Bruno Nicolai, proseguirà invece quella con Bruno Nicolai come direttore d'orchestra delle sue colonne sonore. Bene, partiamo come le altre volte con la nostra carrellata sulle score di quest'anno, appunto il 1969, e ovviamente ci soffermeremo su quelle più interessanti. Cuore di Mamma, regia di Salvatore Samperi, Lalibi, con la regia tripla di Adolfo Cieli, Vittorio Gasman e Luciano Lucignani, Vergogna Schifosi, regia di Mauro Severino, Tepepa, altro western di Giulio Petroni, Irit, con la regia di Francesco Casaretti, che segna il debutto cinematografico di un certo Paolo Villaggio, La Monaca di Monza, regia di Eri Prando Visconti, Ecce Homo, i sopravvissuti, regia di Bruno Gaburro. Allora, qui abbiamo una cosa un po' particolare, vi faccio vedere questa parte della locandina originale, del posto originale, in cui c'è scritto censurato dalla distribuzione. Allora, con la premessa che erano anni in cui la censura funzionava in maniera abbastanza forte, abbastanza spietata, e come abbiamo visto la volta scorsa per il film di Teorema di Pasolini, si rischiava addirittura il procedimento penale, quindi la condanna penale e addirittura la distruzione fisica della pellicola, quindi, come dire, cose per oggi abbastanza impensabili, ma erano sicuramente anni in cui non c'era necessità di alcuna censura a parte quella ufficiale, perché funzionava già quella. Che cosa vuol dire censurato dalla distribuzione? Non vuol dire assolutamente un bel niente, naturalmente. La distribuzione è quella che distribuisce il film, quindi che guadagna dagli introditi del film, figuratevi se la distribuzione decide di autocensurarsi, è una cosa ovviamente senza senso. È uno specchiato per la lodore, fondamentalmente, un trucco per portare più gente al cinema, convinti, insomma, di fargli assistere a un film probabilmente molto più forte e molto più spinto di quello che poi era in realtà. Gli intoccabili, regina Giuliano Montaldo, prosegue la collaborazione tra lui e Ennio Morricone, ovviamente, sa va a san dire, non c'entra niente con gli intoccabili di Brian De Palma del 1987, di cui Morricone scriverà la colonna sonora, ma insomma, quasi vent'anni dopo. E arriviamo a uno dei più grandi successi del 1969, la politista cinematografico, cioè Metti una sera a cena, con la regia di Giuseppe Patroni e Griffi. Allora, cosa possiamo dire su questa colonna sonora? Che è una bossa nova basata fondamentalmente su una melodia di tre note. e poi su due accordi dove fa vi ricorda niente? A me sì, a me ricorda se telefonando, scritta sempre da Ennio Morricone, tre anni prima per Mina, ve la ricordate come fa? Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Allora, perdonatemi la performance vocale, che è l'unica peggiore di quella pianistica, ma dal punto di vista compositivo, abbiamo la stessa struttura di Metti una sera a cena, o se preferite, visto che Metti una sera a cena è successivo, è Metti una sera a cena, che ha la stessa struttura di Se telefonando. e possiamo basarci su tre note. Sempre tre note e due accordi di passaggio. Esattamente come in una sera a cena, abbiamo una melodia di tre note e poi con due accordi di passaggio che erano il film vincerà il nastro d'argento e la colonna sonora naturalmente diventerà disco d'oro, c'è bisogno di dirlo. Andiamo avanti con la carrellata, La donna invisibile, regia di Paolo Spinola, Keimada, regia di Gilo Pontecorvo, anche lui ormai la collaborazione con Ennio Morricone è assodata, H2S, regia di Roberto Faenza, Sai cosa faceva Stalin alle donne, regia di Maurizio Liverani, L'assoluto naturale, regia di Mauro Bolognini, Una breve stagione, regia di Renato Castellani, Un esercito di Cinque uomini, un western stavolta, scritto da Dario Argento, quindi soggetto a sceneggiatura di Dario Argento, regia di Don Taylor e Italo Zingarelli, La stagione di Sensi, regia di Massimo Franciosa, Senza sapere niente di lei, regia di Luigi Comencini, I cannibali di Liliana Cavani, anche con Liliana Cavani prosegue la collaborazione, che vedete come poi insomma i registi che si legano a un compositore con cui trovano un film particolare raramente poi vanno in cerca di un altro compositore. E il penultimo film di cui parliamo quest'oggi, riferito appunto al 1969, cioè il clan dei siciliani. Il film fa parte di tutto quel filione crime che andava tanto in quegli anni, che poi in realtà è uno di quei filoni che non ha sentito tantissimo le mode del momento, ma è sempre stato molto presente nella produzione cinematografica. Non dimentichiamo che siamo agli anni in cui sta per esplodere il fenomeno del poliziottesco di cui parleremo più avanti. Ultimo film di cui parliamo oggi, La Tenda Rossa, ultimo film del 1969, una coproduzione italo-russa. Diretto da Mikhail Kalatozov, il film racconta essenzialmente la storia di Umberto Nobile e della sua sfortunata spedizione al Polo Nord. È una produzione italo-russa e come spesso capita con le produzioni internazionali, si va incontro con i problemi di distribuzione. Cosa voglio dire? Il film, la versione originale, non solo era molto lungo, durava circa due ore e mezzo, che per i tempi era una durata abbastanza importante, ma aveva una colonna sonora scritta da un compositore russo. Il compositore in questione era Alexander Zezepin, un solito professionista del cinema russo. Ma cosa succede? Che la coproduzione italiana decide di ridurre la lunghezza del film. Allora, perché si mette mano alla lunghezza di un film? Non è quasi mai per motivi, ovviamente, artistici. È quasi sempre per questioni distributive. Un film troppo lungo non può essere proiettato più di tante volte nel corso di una giornata, mentre un film più breve può magari fare quattro, a volte anche cinque proiezioni in un giorno. La produzione italiana, che aveva comprato il film con quella russa, decide quindi di prendere la faccenda in mano e di tagliare in completa autonomia e senza il permesso una buona parte del film. Tenete presente che erano anni in cui l'Unione Sovietica era molto chiusa in sé, quindi andava benissimo quel film per il mercato russo, ma poi non sarebbe stato, non c'era nessun controllo sul mercato internazionale. Addirittura tenete presente che era un film ovviamente come tutte le cose dei tempi dell'Unione Sovietica che è fatto sotto leggi del KGB e sotto lo stretto controllo del KGB. Mettendo mano in maniera così importante al montaggio del film capite bene che la colonna sonora non stava più in piedi. In più la casa di produzione italiana ci teneva ad avere un compositore italiano e nella fattispecie ci teneva ad avere ovviamente Ennio Morricone che era un gran bel nome da mettere su qualunque film. Per cui il film viene drasticamente tagliato e la colonna sonora viene rifatta da Zero ed Ennio Morricone. La particolarità di questa colonna sonora è duplice. Da un lato ci sono un paio di pezzi che Morricone recupera, ricicla diciamo da alcune colonne sonore precedenti in particolare da Menage all'Italiana del 1965. Dall'altra parte fa una suite di oltre 20 minuti in cui tutta la sua capacità di scrivere musica colta in questo caso musica a tonali musica con una forte connotazione sperimentale trova veramente sfogo e Morricone scrive questo pezzo di oltre 20 minuti di lunghezza basandosi appunto su effetti su suoni su sonorità particolari e soprattutto su una musica fortemente atonale. Quindi come dire non certo quello per cui era conosciuto al grande pubblico. E con il 1969 si chiude la puntata di oggi non mancate la prossima perché ci stiamo avvicinando all'anno più incredibile della vita di Ennio Morricone e della sua produzione cinematografica. Vi aspetto alla prossima.